Siete pronti? Ok. Onorevole Boniver, il Presidente della Repubblica ha mandato un messaggio chiaro per quanto riguarda lo Ius Solis per i nuovi immigrati, figli degli immigrati. Cosa pensa il PDL di questa visione, ovvero sia chi è nato in Italia ha il diritto di essere cittadini? Sì, ho visto questa frase di Napolitano, una bella affermazione. La posizione del PDL è che per ottenere la cittadinanza si può discutere magari nell'accorciare il tempo per ottenerla che oggi è di dieci anni di residenza nel paese e soprattutto quello di non avere una felina penale macchiata. Certamente il Presidente Napolitano sa che per introdurre un cambiamento così radicale in una legge sulla cittadinanza bisogna lasciare il campo libero alla dinamica parlamentare. Tanto per essere molto chiari la cittadinanza non può e non deve diventare un argomento di decisione di questo governo di tecnici. Grazie. 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 Grazie.